Gabriele Aldegani, portiere ex Milan, Avellino, Chievo, Livorno e ora al Pescara, durante la sua lunga carriera si è allenato con i migliori preparatori dei portieri italiani. Ora, con la sua esperienza, si è buttato a capofitto nell'avventura dell'Accademia del Portiere. Gabriele, temi forse la concorrenza? Soprattutto l'età più che altro, è quella la concorrenza, che da vecchietto con questi ragazzi che vengono qui, che hanno una grandissima passione e ci mettono un'aima a provare a fare ciò che gli chiediamo, quello sì, quello ti mette in difficoltà perché è bello, è vedere l'entusiasmo che hanno nel provare a mettere in pratica le cose che noi gli stiamo insegnando. Quanto conta e quanto può aiutare questo tipo di scuola calcio nella vita di un atleta? Sicuramente è una crescita perché ci sono dei mister preparati, io nel mio piccolo da portiere però ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori portieri che mi hanno insegnato tanto e per me adesso è una gioia poter dare le stesse indicazioni che ho avuto io. Dunque per una crescita di un bambino ma anche solo di un adulto magari ci sono piccole sfumature che qui possono correggere che magari da altre parti non se ne accorgerebbero e così riescono a migliorare di volta in volta. E oltre a questo magari una crescita sia sul campo che anche dal punto di vista caratteriale e professionale? Quello sicuro perché quando si viene qui comunque sia si fa parte di un gruppo con delle regole sull'educazione, sul rispetto del compagno e dunque è una questione di crescita non solo sportiva ma anche umana.